del CISL e UIL organizzato dalla società di compagni Rubido Produzioni con la RAI che lo trasmetterà su RAI 3 e anche con uno sviluppo radiofonico su RAI Radio 2. Voglio salutare i segretari, partendo dal segretario generale della UIL Carmine Barbagallo, Gianna Fragassi, segretario confederale della CISL, Giovanna Ventura, segretario confederale della CISL, saluto Carlo Cavaludani e Massimo Bonelli con i quali poi entreremo nel merito del concerto del primo maggio, saluto Luca Mazzà che è il cavo struttura di questa avventura, quest'anno del concerto e anche degli altri anni e saluto anche il direttore di RAI 3 Andrea Pianello, direttore però prima di iniziare la nostra chiacchierata, Camila che avete visto qui non c'è, voleva fare… Non abbiamo ancora neanche non c'è, non c'è, non c'è, non abbiamo già dato il comunicato a tutti e non è presente, allora provo a fare un saluto perché pochettina è bloccata a letto con 39 di febbre, dicevo voglio fare però un salutino, essere con voi presente, facciamo proprio una cosa, ci proviamo, ci proviamo.